Emozioni e amicizie sui social, opportunità e rischi. È questa l'iniziativa che l'Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino di Favara ha organizzato con la modalità della didattica a distanza. Una videoconferenza con il professore Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione all'Università di Messina, cui hanno partecipato gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria. Alla videoconferenza coordinata dal docente Giuseppe Piscopo, direttore dell'Albero, il giornale della scuola, hanno partecipato anche la dirigente scolastica Carmela Sgarioto, con vari insegnanti. È il presidente dell'Associazione Generazioni Consapevole, ingegnere Achille Furioso. È stato un incontro molto partecipato, con tante interessanti domande che gli alunni hanno rivolto al professore Pira, sui vari aspetti del web, sulle opportunità che la rete offre in questo periodo di stare a casa, ma anche sui rischi in aumento per un uso distorso che spesso si fa. Una bellissima mattinata passata a discutere di emozioni, di amicizia, di valori sul web con i ragazzi delle terze medie dell'Istituto Falcone Borsellino di Favara. Ringrazio tantissimo la dirigente scolastica Carmela Sgarioto, il suo staff composto da Giuseppe Piscopo, Monica Costanza, Carmen Milia, tutti i docenti della scuola, per avermi dato l'opportunità di parlare con i ragazzi che hanno fatto tantissime domande di un argomento di grandissima attualità, che assume dei contorni ancora più interessanti in questi giorni di emergenza Covid, perché sono giorni in cui i ragazzi stanno seguendo le lezioni attraverso il web, ma vivono tutti i loro contatti sociali attraverso i social network, attraverso la messaggistica veloce. Quindi è cambiata la loro dimensione di vita e assorbono ancora di più la necessità di avere contatto con gli altri, ma è un contatto mediato dalle nuove tecnologie. Le domande sono state tantissime, tutte interessanti, dal dark web al cyberbullismo, al sexting, alla violazione della propria privacy, all'accheraggio dei vari profili. Quindi è stato un momento di confronto davvero interessante, quindi mi complimento con l'istituto che ha veramente formato dei ragazzi che dopo la scuola media potranno affrontare con successo anche il percorso delle superiori. Abbiamo sperimentato questa formula della conferenza online e penso che possa essere molto utile riproporla perché il livello di attenzione e il livello di interazione è stato altissimo e anche interessantissimo.